Oggi vi presento un artista e un architetto alla quale dicherò un solo show presso la Luca Art Fair 2024 ad aprile ed una mostra personale che aprirà sabato 4 maggio presso l'ex chiesa di Nigrignano di Sarnico. Sto parlando di Jacopo Berlendis. Le due esposizioni avranno lo stesso titolo, oltre le radici. Se cliccate sul link in descrizione potrete accedere al testo critico che gli ho dedicato. Jacopo si presenta fin da subito come un artista il cui lavoro trascende confini spaziano tra arte design e architettura. La sua dedizione a rigenerare materia emerge vividamente attraverso la sua opera dove ogni creazione è una riflessione dell'incessante dialogo tra il suo spirito creativo e la natura stessa. Attraverso la sua arte ci invita a riflettere sulla connessione intrinseca tra materia e luce. Crea opere che vanno oltre la superficie visiva offrendo un viaggio emozionante attraverso la connessione tra materia, memoria e significato. Ogni opera si presenta come una finestra aperta su mondi interiori incanalando la maestria dell'artista nel tradurre emozioni e concetti complessi in forme visive coinvolgenti. Ci sarebbe molto altro da dire ma la breve durata del reel non me lo permette. Vi consiglio di venirci a trovare a Lucca e a Sarnico a seconda delle vostre comodità. Vi consiglio assolutamente di seguirci in questa operazione perché Jacopo è un artista di grande talento e sarà fantastico assistere alla sua grande crescita.